Provate a chiudere gli occhi e vi ritroverete nel mondo fattato di Camelot, fra dame, cavalieri, elfi, maghi e quant'altro. Provate a richiudere gli occhi e vi ritroverete catapultati ai giorni nostri nella realtà delle amicizie della scuola e dei problemi vari dei ragazzi di giovanità. Mischiate tutto e incastrate bene i due mondi ed otterrete la bellissima esperienza della La vera storia di Re Artù, realizzata dal DAS di Clelia Cajati, che ha curato la direzione artistica e le coreografie delle bravissime Silvia Cuccovillo, testi e regia, e Mariangela Ruanno, vocal coach e direzione musicale. Sono quattro anni che abbiamo avviato questo corso di avviamento al musical, che quindi comprende le tre discipline canto, recitazione e danza, con due professionisti del settore, nonché valendomi anche della mia esperienza artistica e professionalità. È stata un po' difficile, perché bisogna studiare moltissimo, mettere in scena uno spettacolo in cui i ragazzi recitano, cantano e danzano dal vivo è davvero complicato. Richiede anche un allenamento fisico considerevole. Abbiamo unito le nostre esperienze artistiche, nonché anche di amicizia, perché siamo tre amiche, nonché colleghe, ed è venuto fuori questo terzo spettacolo, perché in realtà è il nostro terzo spettacolo inedito che mettiamo in scena. È una da che abbiamo avviato questo corso di avviamento al musical. Un bellissimo gruppo di ragazzi e ragazze dagli 8 ai 18 anni, che in due ore di spettacolo hanno recitato, cantato e ballato come veri professionisti in un teatro traetta, con un pubblico entusiasta per le performance degli artisti sul palco. Giochi di colori, musiche e danze ben orchestrate con la recitazione, che anche se rarissime volte insicura, ci sta l'emozione del palco, ricordiamolo, ha confezionato un bellissimo racconto con l'utilità sociale di spiegare il bullismo ai giorni nostri, e dove i comedianti del regno di Camelot aiuteranno Bianca ad affrontare a testa alta chi l'aveva presa di mira. La tematica è nata perché quando lavoro con i ragazzi, specie di quest'età, per me è fondamentale lavorare sul sogno, sulla fiducia, sul bello, fra virgolette. E poi lavorando con loro, loro stessi mi dicevano, però forse un po' troppo antico, insomma mi si è aperto il portale, ho detto ok, uniamo i due mondi e facciamo in modo che Artù aiuti Bianca e Bianca aiuti Artù. Ed è nato questo melange fra favola e quotidiano con problemi che a me ci sono, lo sappiamo tutti, bullismo e quant'altro, cercando di tirar fuori una positività che i ragazzi è importante che abbiano e vivano sempre ogni giorno. E devo dire che loro sono stati splendidi, sono stati splendidi, veramente in tutte e tre le discipline e hanno tenuto duro, perché ce l'hanno quella posizione, questo è il bello, che alla fine non devi, una volta che hai l'idea, li fai lavorare per bene, poi loro ti danno tutto quello che puoi avere di più. Quindi non posso che essere felice di come è andata e sono molto contenta della scelta fatta, perché loro hanno risposto bene e credo che abbiamo visto qualcosa di significativo stasera. Una dolcezza infinita nel centrare l'obiettivo, perfettamente riuscito nel lavoro svolto delle tre insegnanti che hanno gestito tanto e bene gli attori. Dalla cattiva ma bravissima Fata Morgana, al mago Merlino, alle scarafaggine, al maniscalco e al Realtù, Ginevra e l'Ancillotta, passando per le due bullette, la nonna e il gufetto, che poi si scoprirà bellissima ragazza a causa dell'incantesimo della maga. Allora, Biagio è praticamente dalle tre di oggi pomeriggio che fa manco che se dovesse fare la lirica e io gli ho detto Biagio ma smettila, basta, lo spettacolo è alle otto, però per tutto il pomeriggio ha continuato ininterrottamente con i suoi vocalizi, ma va bene così, siamo un po' fissati noi cantanti, per cui tutti mi hanno detto che sono stati coperti in questi giorni per il raffreddore, quindi qualcuno è venuto già stamattina maestra, ma io tutto raffreddato, la vita dei cantanti è dura. Se ve lo siete perso, peccato, ma le parole delle tre coach vi faranno capire quanta soddisfazione hanno provato nel vedere i loro ragazzi così bravi sul palco della vita.